Stiamo cercando di preparare o prepariamo meglio ancora i veri piatti italiani, nel senso le vere ricette, non quelle camuffate o falsificate da varianti che delle volte mettiamo oppure qualcuno mette per agevolare le preparazioni o per fare piatti a più a basso costo. Quali sono i principali sfregi al Made in Italy nel piatto che sono qui in esposizione a Cernobbio? La cotoletta alla milanese è fatta con il pollo e poi la cotoletta è una costoletta, deve avere l'osso ed è di vitello, alta 2-3 cm, cotta 8 minuti per parte nel burro chiarificato. Il tiramisù perché è del mio territorio, quando lo vedo fare con il pan di spagna, la panna oppure le varianti alla fragola mi fa caponare la pelle perché il vero tiramisù sono savoiardi, una crema fatta con uova, mascarpone fresco di latte 100% italiano e del caffè, non c'è niente altro. Questo è il tiramisù e non si devono fare varianti, nel senso che se vogliamo chiamare una cosa con quel nome dobbiamo farla e chiamarla con quel nome perché abbiamo seguito la vera ricetta originale e abbiamo usato i prodotti italiani originali per fare la ricetta. Altra particolarità potrebbe essere la carbonara, quando la vediamo servita magari amalgamata con la panna per evitare che l'uovo non strapazzi in cottura, oppure usiamo la pancetta. La carbonara vera ha il pecorino solamente, le uova non ha assolutamente panna, la pasta è cotta al dente ripassata poi nel guanciale stagionato che viene rosolato in padella e abbiamo amalgamato l'uovo fuori cottura. In questa maniera l'uovo diventa una crema, si avvolge alla pasta e non abbiamo bisogno di panna per legare.